Leonardo Silva Revisore Revisore Ho conosciuto un certo Carlo vicino al cinema Empire, giovedì scorso, verso le ore 18. Era uscita dal cinema insieme alla mia amica Nadia. Stavamo facendo l'autostop e si fermò questo ragazzo. Era gentile, cortese. Salimo su. Durante il tragetto ci propose di vederci nuovamente insieme a un suo amico e così lì dede il mio numero di telefono. Mi telefonò sabato verso l'ora di pranzo e mi chiese se potevamo vederci il pomeriggio al bar del ristorante Il Fungo all'Eur. Andai all'appuntamento con Rosaria. Con Carlo c'erano due suoi amici, Angelo e Gianni. Abbiamo bevuto qualcosa, chiacchierato e al momento di salutarci ci chiesero se potevamo uscire nuovamente con loro il lunedì successivo. Prendemmo quindi un nuovo appuntamento per il pomeriggio del lunedì alle ore 16, davanti al cinema Ambassade. All'appuntamento c'erano solo Angelo e Gianni. Ci dissero che Carlo ci stava aspettando a Lavigno e che avremmo potuto passare il pomeriggio con lui al mare. Salimmo sulla macchina. Eravamo già vicino alla puntina, la strada che porta verso il mare. Ma loro non svoltarono per Lavigno. Verso le 17 si fermarono per telefonare a Carlo e ci dissero che non l'avevano trovato e che probabilmente era andato a farsi un bagno. Arrivamo davanti a una villa. Era bianca, a tre piani. All'entrata vi era una porta a vetri con infissi di legno marrone. Ci dissero che la villa era di Carlo. Mancavano 10 minuti alle 18. Gianni era vestito con pantaloni scuri e una maglietta color crema. Se volete che ve lo descriva è un ragazzo di circa 23 anni, magro, molto alto, ha i capelli neri, anche gli occhi li ha neri. E ha una piccola cicatrice sulla guancia, credo sia la guancia sinistra. Di Angelo mi sono rimasti impressi gli occhi, azzurri. Sporgenti, a palla. È molto più basso di Gianni, ha una cicatrice sul polso sinistro. Mi disse che era un tatuaggio cancellato che aveva lasciato il segno. Mi disse anche che si era operato di recente. Indossava una maglietta celeste, con delle piccole righe bianche e un paio di blue jeans. Nella prima mezz'ora non ci furono minacce, né violenza. Poi la trasformazione. E tutto diventò un incubo. Erano le 18 e 20 e ci trovavamo nel giardino. Gianni tirò fuori una pistola. Lui e Angelo cominciarono a dire che erano della banda dei marsigliesi. E per spaventarci ancora di più ci dissero che doveva arrivare un certo Jacques, che era il loro capo, che era terribile e che era stato lui a dare l'ordine di prendere due ragazze. Noi dicemmo subito che non avevamo mai fatto l'amore e che ci dovevano lasciare andare. E loro risposero che se avessero saputo che eravamo vergini nemmeno ci avrebbero prese. Insistevamo. Volevamo tornare a Roma. Ci spinsero verso il bagno e ci chiusero dentro, a chiave. A un certo punto Angelo aprì la porta. Era solo. Ci disse che Gianni era andato a dormire. Fece uscire Rosaria. Poco dopo la fece tornare in bagno. Era molto spaventata. Mi disse che l'aveva obbligata a spogliarsi e che l'aveva abbracciata. La rimandò in bagno, completamente nuda. Poi chiese a me di uscire fuori. Mi disse, vieni qua, non avere paura. Mi portò in una camera dove c'era un letto a una piazza con sopra una coperta verde. Mi disse, se strilli ti addobbo. Una frase che ci ripeterono poi più volte. In questa stanza mi fece spogliare. Cominciò ad accarezzarmi. E io cercavo di assecondarlo perché ero terrorizzata. la finì anche con me dopo circa mezz'ora. Mi riportò nel bagno. Si era tenuto i nostri vestiti. Ci lasciò così, tutte e due nude. Entro le ventitré Gianni doveva essere tornato. E debì la sensazione che fosse fuori a fare la guardia. Angelo andò a dormire per circa un'ora. A luna di notte tornò. Era nudo. C'era anche Gianni. Mi fecero uscire dal bagno. Gianni era arrabbiato, disse che non ero buona a fare niente. Lui e Angelo ridevano di me. Subito dopo mi dissero di chiamare Rosaria. Gianni diceva, una delle due la dobbiamo sverginare. Noi li imploravamo di lasciarci andare. E loro ridevano. Ci prendevano in giro. Ci richiusero nel bagno. Noi piangiavamo. Avevamo freddo. Eravamo nude. Ci gettarono una coperta. Non riuscivamo a dormire. Ci abbracciavamo e cercavamo di farci coraggio. Alle sei del mattino arrivò Angelo, che ci disse che dovevamo andare in un altro bagno perché in quello dove stavamo dovevano entrare delle persone. Rosaria strillava, implorava di lasciarci andare. Angelo aveva la pistola in mano e Gianni presa una cinghia, cominciò a bestemmiare e ci disse, state zitti, altrimenti vi ammazzo. Verso le 10 sentì lo scuglio del telefono, che era al piano di sopra. Poco dopo scese giù Angelo, che era andato a rispondere, disse che era Jacques e che sarebbe arrivato verso le 2 del pomeriggio, con gli altri. Verso mezzogiorno Gianni mi fece uscire un'altra volta. mi disse, vieni fuori tu che hai fatto la brava. Gianni era arrabbiato perché continuavo a implorarlo di lasciarci andare. Mi diede dei calci sulla schiena, tanti. Anche Rosaria cominciò a gridare. I due si arrabbiarono ancora di più e ci chiusero nuovamente nel bagno. Verso le 2 del pomeriggio sentì di nuovo lo scuglio del telefono. Era Jacques che diceva che sarebbe arrivato più tardi. Si erano fatte le 15 e 30. Angelo si mostrava preoccupato e diceva che se non arrivava nessuno allora saremmo tornati a Roma noi quattro. Gianni invece diceva di non muoversi e suggerì ad Angelo di telefonare a Carlo. Carlo dovette tranquillizzare Angelo e comunicargli che stavano arrivando e decisero di aspettare anche se avevano fretta. Noi eravamo sempre chiuse nel bagno. Potevamo capire cosa stava accadendo sentendo le loro voci. Arrivò Jacques. Era alto circa un metro e settantacinque. Robusto. Castano. I capelli li aveva appena ondulati. Aveva una leggera frangetta sulla fronte. Ci avevano detto che era il capo dei marsigliesi ma parlava italiano senza particolari inflessioni. Disse che aveva 23 anni ma ne dimostrava di più. All'inizio non fu cattivo. Mi disse se non vuoi venire a letto con me io non insisto. Sgridò Angelo perché continuava a metterci le mani addosso. Ci assicurava che ci avrebbe riaccompagnata a casa che però non dovevamo dire niente di quello che era accaduto. Poi però ci guardò e ci disse che dovevamo fare l'amore io e Rosaria. ci costrinse ad abbracciarci. Poi scelse Rosaria e la portò in una stanza. Angelo prese me, mi mise un cuscino sulla bocca e mi piantò la pistola alla nuca. Siccome mi lamentavo Gianni cominciò a picchiarmi a darmi i calci sulla schiena e negli stessi momenti sentivo Rosaria che gridava nell'altra stanza. poi vedi Rosaria e Jacques uscire dalla stanza. Rosaria aveva parecchio sangue tra le gambe e guardava Jacques come se gli dicesse ora che ti ho fatto questo lasciami andare. A quel punto Jacques mi ordinò di andare nell'altra stanza con lui e Rosaria rimase con Angelo e Gianni. Jacques si mostrava dolce, mi baciava, mi diceva di non preoccuparmi, si mostrava soddisfatto di quello che aveva fatto con Rosaria. Era completamente nudo. Erano circa le 19.30. Ci ritrovammo tutti e cinque nella stessa stanza. Noi li imploravamo di lasciarci andare. Loro ci dissero che per mandarci a casa avrebbero dovuto addormentarci. Così non avremmo dato fastidio nel viaggio. Vedi Gianni preparare una siringa di plastica con del liquido rosso. A Rosaria dissero che l'avrebbero addormentata al terzo piano. Angelo la portò su per le scale e intanto Jacques prese la siringa e mi fece una prima iniezione e poi un'altra. Ma io non mi addormentavo, anzi non provavo nessuna sensazione di torpore. Vedi Angelo e Rosaria ridiscendere dal terzo piano. Angelo si lamentava perché l'iniezione non aveva fatto effetto su Rosaria. Angelo aveva tra le mani un laccio emostatico e si vantava che lui con quel laccio aveva ammazzato tanta gente. Rosaria fu portata di nuovo al piano di sopra e da quel momento non l'ho più vista. Poi senti aprire il rubinetto della vasca da bagno e immediatamente dopo avverti i suoni emessi da una persona la cui faccia è immersa nell'acqua, dei rantoli come di qualcuno che cerca di riprendere fiato. A intervalli. Chiesi a Jacques di intervenire e gli dissi che stavano facendo del male alla mia amica. Lui salì su e scese Gianni che mi fece la terza iniezione. Quando non senti più i gemiti mi ritrovai accanto Gianni. Subito dopo scese Jacques e dopo un po' Angelo. Notai che erano stanchi e affaticati. Angelo e Gianni mi legarono con una cinta di cuoio, quella dei pantaloni. Me la misero al collo e mi trascinarono per la casa. Gianni mi mise un piede sul petto mentre tirava, tirava la cinta. Ricordo che più stringevo e più mi sentivo soffocare. La vista mi si annebbiava, vedevo tutto nero. Svenni. Avrò dormito per circa dieci minuti. Mi sembrava di stare in pace a casa mia. Quando mi risvegliai cercai di strapparmi dal collo la cinta che mi stringeva. Ero riuscita ad allentare la stretta infilando le dita dentro al cappio. Per un attimo avevo ripreso a respirare, ma quando se ne accorsero si arrabbiarono ancora di più e cominciarono a darmi dei calci sul viso. Mi colpivano Angelo e Gianni. Jacques guardava e rideva. Vedi Gianni che aveva in mano una spranga di ferro con la quale mi colpiva la testa. Mi colpiva, mi colpiva, ma non riuscivo a perdere i sensi. E allora lo senti dire, lasciamo stare. La portiamo nel portabagagli e poi provvediamo con un colpo di pistola. Si allontanarono, credo, per pulire il sangue che era per terra. E allora ne approfittai. Ero nel salone, mi avvicinai al telefono, ho presi la cornetta, riuscii a fare il 113. Ero convinta di trovarmi in una villa di Lavigno, comunque non distante da Latina. Riuscì a dire, pronto, mi stanno ammazzando, sono a Lavigno. Se ne accorsero. Mi strapparono il telefono e ricominciarono a colpirmi, sempre più forte. Era già buio quando mi misero nel portabagagli. Potevano essere le 21. Nel frattempo era giunta un'altra auto. Prima misero dentro me. Mi sollevarono con una coperta e una tela cerata. Io facevo finta di essere morta. Ci credettero, tanto che Gianni disse, finalmente questa è morta. Chiusero il portabagagli. Poi lo riaprirono per metterci il corpo di Rosaria. Gianni disse, guardate come dormono bene queste due. Silenzio, che qui ci stanno due morte. Subito dopo misero nel portabagagli Rosaria. Rimanemmo fermi per qualche minuto. Tornammo verso Roma. Intanto cercai di scuotere Rosaria con il gomito. Ma non la chiamavo, avevo paura che sentissero la mia voce. Avrebbero capito che era ancora viva. Rosaria era completamente inerte. Non parlai neanche a lei. Avevo paura. Avrebbero capito che era ancora viva. Solo quando ci fermammo a Roma cominciai a chiedere aiuto. Rosaria era sempre inerte. Io non capivo neanche dove avesse la testa. Ma naturalmente lo avevo capito che era morta. Ringraziamo Anna Fersetti per questa...